Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Campi dove ha inaugurato questa mattina il primo cantiere in Italia di fibra ottica nell'ambito dei piccoli comuni. Il Premier Gentiloni ha assicurato la vicinanza del Governo alla ricostruzione nel cratere e ha ricordato che Campi è il simbolo di un'Italia che è tornata a crescere e a guardare al futuro con grandi progetti infrastrutturali. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Il Governo italiano rappresentato dal Premier Paolo Gentiloni ha scelto Campi in provincia di Teramo per inaugurare il primo cantiere in Italia nell'ambito dei piccoli comuni che installerà la fibra ottica per un internet super veloce. Campi dunque simbolo di rinascita di un'Italia che guarda al futuro e che come ha dichiarato il Presidente del Consiglio è tornata a crescere con un più 1,8%. L'investimento complessivo dell'open fiber sull'intero territorio italiano si aggira intorno ai 7 miliardi di euro con la creazione di oltre 10.000 posti di lavoro. Ma sentiamo il Premier Gentiloni. Io credo che non sfugga a nessuno il valore simbolico dell'inaugurazione che stiamo facendo questa mattina, che abbiamo fatto questa mattina. Perché da una parte parliamo al luogo in cui ci troviamo, parliamo a Campi, parliamo alla zona del cratere colpita dal terremoto in Abruzzo e in generale alle aree colpite dal terremoto. E dall'altra parte parliamo al paese perché cogliamo questa occasione per raccontare un progetto che sta incamminandosi e che ha il valore strategico di cui prima si è parlato. Campi è uno dei comuni colpiti dal terremoto, è uno dei comuni del cratere ed è credo di straordinaria importanza dire grazie a chi ha lavorato, a Open Fiber, ai suoi ingegneri, ai suoi tecnici, alle maestranze, agli operai dei cantieri senza i quali non si fanno queste operazioni e queste innovazioni. E quindi dirgli grazie perché lo hanno fatto esattamente qui, dimostrando che noi abbiamo bisogno nelle aree colpite dal terremoto certamente di far fronte all'emergenza, abbiamo bisogno certamente di ripristinare l'antico, di far tornare alla loro bellezza, ai borghi del nostro centro Italia colpiti dal terremoto con il loro patrimonio storico, con le loro ricchezze straordinarie, con la loro unicità, perché ogni comune ha le sue particolarità, con le loro tradizioni. So che a Campli, oltre a grandi bellezze architettoniche, c'è anche una tradizione gastronomica che si è fatta valere nel corso dei secoli addirittura e che va valorizzata e rilanciata. Ad accogliere il Presidente del Consiglio Gentiloni a Campli sotto una pioggia incessante c'erano il Presidente della Regione D'Alfonso e il Sindac, il Presidente della provincia di Terra, Morrenzo di Sabatino, i parlamentari Paolo Tancredi e Federica Chiavaroli. Campli, ultraveloce, grazie alla fibra ottica, diventerà una spinta positiva alla ricostruzione di una provincia, quella terramana, gravemente danneggiata da un anno di eventi naturali. E su questo il Premier Gentiloni ha voluto rassicurare tutti, garantendo la vicinanza del Governo. Benvenuto a Open Fiber, a Campli e tanti auguri per il vostro lavoro dei prossimi due o tre anni che il Governo guarderà con attenzione, con simpatia, con amicizia e anche con severità perché bisogna farle le cose che abbiamo fatto vedere oggi. Grazie. Lo scheletro di donna ritrovato a Tolentino è il cadavere di Renata Rapposelli. Il test del DNA, anche se non è completo, sembra non lasciare spazio a dubbi. I primi risultati dell'esame comparativo condotto sui resti della donna trovata morta il 10 novembre e i campioni di saliva e capelli prelevati dai figli confermano che il cadavere è proprio quello della pittrice 64enne di origini teatine che è scomparsa da Ancona il 9 ottobre scorso dopo una visita a marito e figlio in Abruzzo. Domani a Macerata verrà eseguita l'autopsia affidata ai medici legali Loredana Buscemi e Antonio Tombolini. Il giorno successivo invece è previsto un sopralluogo dei carabinieri del RIS nell'appartamento di Via Pescheria ad Ancona dove la Rapposelli abitava. Il marito e il figlio della pittrice Giuseppe Simone Santoleri di Giulianova sono indagati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. L'ex marito dell'artista a seguito dell'intossicazione da barbiturici avvenuta domenica sera farmaci con i quali sembra abbia tentato il suicidio è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Atri. Le sue condizioni sono serie. Cambiamo pagina mentre si parla della nuova Pescara torna ad attualità il tema di Pescara come capoluogo di regione. Tra i favorevoli l'assessore ai grandi eventi del capoluogo adriatico Giacomo Cuzzi, il servizio è di Paolo Renzetti. Mentre si lavora anche dal punto di vista legislativo alla realizzazione della nuova Pescara, nelle ultime ore è tornato d'attualità anche il tema su Pescara capoluogo di regione. Tra i favorevoli l'assessore comunale ai grandi eventi Giacomo Cuzzi. Premesso che io sono favorevole affinché la politica si interroghi per la costruzione di un grande territorio urbano di questa area metropolitana che sia corrispondente alle esigenze di crescita futura della nostra città e della città metropolitana. Credo che le attempistiche proposte dalla legge regionale siano troppo stringenti rispetto all'importanza della progettualità che non può essere un esperimento ma deve essere di fatto una fusione che produrrà futuro per il nostro territorio. Dopodiché io non sono nemico di questo progetto, anzi credo che sia una grande opportunità ma che va ampliato. Penso ad esempio ai comuni di Francavilla, di San Giovanni Tatino che sono in quest'area continua metropolitana e credo che bisogna arrivare a 250.000 abitanti affinché si possano cogliere reali e vere opportunità. Questa cosa non piacerà sicuramente all'Aquila, agli Aquilani, a quello che è oggi il capoluogo di regione? Io sono un amico dell'Aquila e degli Aquilani senza nulla togliere a loro. È la spinta necessaria che la politica deve continuare a imprimere per ricostruire territorio e bellezza di quelle importanti città però credo che qui stiamo discutendo di un'altra cosa, cioè una grande area metropolitana sulla costa che credo meriti il capoluogo di regione. Non è una provocazione ma credo che possa essere il primo riconoscimento e poi penso che bisogna ampliare questa progettualità. Sospese le attività didattiche a Pescara e in altri comuni abruzzesi a seguito del bollettino sul maltempo diramato dalla protezione civile per i prossimi giorni. Scuole chiuse in diversi comuni abruzzesi in seguito al bollettino diramato dalla protezione civile regionale così nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre, sono state sospese le attività didattiche a Pescara, a Spoltore, Montesivano e Città Sant'Angelo attività didattiche sospese nel Terramano a Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Pineto. In questi comuni attivati anche i COC, centri operativi comunali. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti comunicato che dalle ore 14 di oggi, martedì 14 novembre, alle ore 14 di giovedì 16 novembre è previsto codice rosso, criticità elevata, per rischio idraulico diffuso sulle zone di allerta Bacini Tordinovomano, Bacino del Pescara e codice arancione, criticità moderata, per rischio idraulico diffuso sulle zone di allerta Bacino Alto e Basso del Sangro. Per domani previsto codice giallo, criticità ordinaria, per rischio idraulico localizzato sulle zone di allerta Bacino della Terno e Marsica. Sono stati invitati i comuni delle zone di allerta, in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse dai recenti incendi, sulle evoluzioni della perturbazione che sta interessando la regione il nostro meteorologo Luca Mennella, intervenuto in collegamento telefonico. Effettivamente la situazione che si va delineando non è delle migliori, in quanto un profondo minimo barico si andrà a posizionare sul basso Tirreno e apporterà un'ondata di forte maltempo su tutte le regioni del medio e basso Adriatico ma in particolar modo quella del medio Adriatico e la brutto. In particolar modo sulla nostra regione sono previsti nelle giornate di domani e di giovedì accumuli superiori ai 100 mm e quindi saranno possibili eventuali disagi e tutto ciò che ne comporta da avere così abbondanti precipitazioni in un lasso di tempo così breve. Ecco, è un'ondata che si protrarrà fino a quando? Teoricamente fino a giovedì poi le condizioni meteorologiche dovrebbero tornare a migliorare sensibilmente su tutto il territorio. Ecco, ritieni che ci potranno essere dei disagi, addirittura nel bollettino si invitano i comuni a effettuare tutte le azioni previste dal piano di emergenza comunale. Ci sono delle zone dell'Abruzzo che potranno essere interessate da alcune criticità? Sì, effettivamente sì perché la quantità di pioggia prevista è notevole e di conseguenza bisogna stare attenti ai corsi fluviali e alle zone che si sa che sono soggette ad allagamenti. Dopo la manifestazione di sabato che ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone l'osservatore indipendente sull'acqua del Gran Sasso chiede ancora alla regione il tavolo tecnico sulla sicurezza dell'acquifero aperto alle associazioni ambientaliste. Alfredo Primante Costituire un tavolo tecnico sulla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso aperto alle associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua e cioè WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, Arci, Pronatura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI e alla richiesta diretta alla regione che arriva dopo la manifestazione di sabato scorso a Teramo che ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone per l'acqua trasparente. Le associazioni ambientaliste dicono di essere riconosciute dalla legge come portatrici di interessi collettivi e diffusi garantiti dalla Costituzione. Sul tema della partecipazione, sottolineano ancora gli ambientalisti, c'è un primo importante risultato. L'osservatorio è stato contattato dal segretario generale dell'autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale, Erasmo D'Angelis che ha sottolineato come sia fondamentale il coinvolgimento delle associazioni della società civile nel tavolo nazionale nato per discutere della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Tra le altre richieste c'è la valutazione di incidenza ambientale dell'esperimento SOX da condurre all'interno dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. L'osservatorio ha poi valutato positivamente l'impegno dei sindaci, affermato nell'assemblea dell'8 novembre, ribadito dal presidente della provincia di Teramo al termine del corteo dell'11 novembre di essere pronti a impugnare gli atti autorizzativi dell'esperimento SOX. Le associazioni ambientaliste hanno affermato la necessità di mettere in campo una vera e propria strategia legale su tutti gli aspetti legati alle interferenze fra l'acquifero, l'autostrada e i laboratori del Gran Sasso affinché si possa garantire la salute degli oltre 700.000 abruzzesi che ogni giorno bevono l'acqua che arriva dalle pendici del Gran Sasso. L'osservatorio indipendente dell'acqua chiede anche l'impegno delle forze politiche. Ha invitato infatti i parlamentari abruzzesi a farsi promotori di un'azione decisa sui vari ministeri competenti affinché si possano accelerare sia il processo per l'individuazione della soluzione definitiva al problema dell'interferenza che l'adozione di misure immediate per l'azzeramento del rischio incidenti. Infine l'osservatorio sollecita il coinvolgimento delle commissioni ambiente di Camera e Senato è annunciato che nei prossimi giorni scriverà ai presidenti dei due organismi per approfondire la problematica dell'acquifero del Gran Sasso anche attraverso apposite audizioni. Le spese del Comune dell'Aquila nel 2016 per i telefoni cellulari. Il sindaco Biondi vuole vederci chiaro e sapere con quali criteri siano stati assegnati tra le cifre più alte quelle di un consigliere che allora era in maggioranza più di 2.000 euro in un anno. Un uso legittimo nella maggior parte dei casi ma il sindaco vuole saperne di più. Daniela Rosone. 30.000 euro per chiamate ai cellulari nel 2016 è quanto accaduto con i cellulari di servizio del Comune dell'Aquila ed è per questo che il sindaco Pierluigi Biondi ora vuole vederci chiaro ed ha inviato nei giorni scorsi una nota ai dirigenti Paola Giuliani, Fabrizio Giannangeli e Lucio Nardis. Ad anticipare il contenuto della missiva è stato il quotidiano Newstown. Il primo cittadino in sostanza chiede chiarimenti su come sono stati assegnati finora i telefoni in dotazione al personale dell'ente e ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Insomma, un tentativo per vederci chiaro. Una lettera che ormai nel Comune è quasi di dominio pubblico in cui si evidenzia come nel 2016 siano stati spesi poco più che 30.000 euro per telefonia mobile. Una tabella dettagliata nella quale si può vedere quanto hanno speso dirigenti, tecnici, ma non solo. Tra i membri della Giunta, ad esempio, l'ex sindaco Cialente ha speso nel 2016 1.670 euro. Poi ci sono Fabio Pelini, ex assessore al sociale con 689 euro, Pietro Di Stefano, ex assessore alla ricostruzione con 518 euro, Betti Leone, ex assessore alla cultura con 387 euro, Emanuela Iorio, ex assessore allo sport con 330 euro, ma anche Pierluigi Mancini, assessore al commercio, con soli 15 euro, esempio virtuosissimo. Tra le spese anche 443 euro di Alfredo Moroni, vicepresidente del Comitato per Donanza. Un uso legittimo, ovviamente questo del telefono cellulare per scopi politici e comunali. Anzi, dalle cifre appare un uso piuttosto ponderato della risorsa telefono del Comune. Nulla di strano, insomma, fin qui. Più alte le cifre di membri del Consiglio Comunale. Quella più alta risulta essere di Antonio Nardantonio, con 2736 euro in un anno. Nell'opposizione di allora, per citare degli esempi, Deramo ha speso solo 200 euro, Alessandro Piccinini e Guido Liris, 72 euro a testa di sole sindati. Fa discutere anche il caso di un'utenza di Pasquale Corriere, inserito come consigliere comunale, anche se la carica non è stata ricoperta da lui nella scorsa consigliatura. Secondo questi dati, avrebbe speso 227 euro del Comune senza avere una carica. Una tabella però incompleta, dove tanti assessori e consiglieri non figurano affatto. E di questo si dovrà scoprire il perché. Resta la questione dei costi alti, in un momento in cui invece ci sono tantissime offerti a prezzi davvero vantaggiosi. E poi la questione è venuta fuori, anche questa grazie al quotidiano Newstown, delle penne USB acquistate nel Dopo Sisma. 5.000 euro di chiavette che non sarebbero state mai usate. Ecco qui che la richiesta del sindaco Biondi appare più che legittima. Sono partiti a Pescara i lavori di riqualificazione della Riviera Nord. L'annuncio è stato dato dal vice sindaco Antonio Blasioli, 800.000 euro il costo dell'opera. Sono partiti ieri i lavori di riqualificazione della Riviera Nord di Pescara, lavori che termineranno a marzo, 800.000 euro l'importo di questa importante opera, vice sindaco Blasioli. Sì, è un'importante opera perché completiamo una riqualificazione, almeno del tratto del Lungomare Nord, quello che va dallo stabilimento Adriatica fino a Gilda, quindi all'altezza di via Manzoni. Sono 511 metri lineari per 9 metri di larghezza di tutta la passeggiata della Riviera Nord. Sono 800.000 euro di lavori, lavori necessari individuati in questo tratto perché il tratto più danneggiato è quello su cui non si era mai intervenuti. Abbiamo la disponibilità dei bagneatori a rimuovere le loro strutture esterne, l'impresa cardinale ha effettuato il 18% di ribasso, il travertino chiaro e la stessa geometria presente prima della nave di Cascella ci consentirà di riqualificare anche questo tratto di riviera. I lavori termineranno per il 20 di marzo e quindi già per la primavera garantiremo una passeggiata più bella e decorosa anche in questa parte della città, non solo ai pescaresi ma anche a tutte quelle persone che verranno a Pescara. La nostra è una riviera particolarmente apprezzata, abbiamo una passeggiata molto larga e in questo tratto, e quindi per 511 metri, sarà possibile riqualificare anche la pista ciclabile. La Fondazione Tiboni ha presentato oggi un Master in Fotografia e Giornalismo rivolto a studenti laureati in Scienza della Comunicazione. È la prima volta che in Abruzzo c'è un Master in Fotografia e Giornalismo con una formazione professionale di altissima qualità. L'idea era proprio rivolgere questo Master agli studenti universitari e creare la possibilità in Abruzzo per la prima volta di avere un Master con una qualità del genere. Punta di diamante del Master è appunto Gabriella Simoni che è qui con noi, che è inviata del Tg5 e che ci spiegherà anche, sarà parte integrante del Master e farà un workshop specifico su quello che è il suo lavoro di inviata e di giornalista. La caratteristica fondamentale è sempre la stessa, da sempre e per sempre, la passione, la voglia di fare e la voglia di lavorare tantissimo. Oggi ci sono dei vantaggi, in primis la tecnologia, il costo dei voli, dei viaggi, che un tempo invece costava moltissimo, era impossibile avere una telecamera, una telecamera costava quanto un appartamento, un viaggio costava un mese di lavoro. La cosa più importante è mantenere un filo rosso con quello che è sempre stato il cardine di questo mestiere, cioè la passione, la voglia di andare in fondo, la voglia di capire e soprattutto uscire dalla logica delle strumentalizzazioni e non farsi guidare da quello che si pensa, ma cercare e vedere quello che si trova. Tutto questo deve anche avere un passaggio tra la vecchia e la nuova generazione e quindi, per dirla in una parola, io non sono tra quelli che credono che questo mestiere sia finito, non abbia un futuro. Questo è un mestiere che esisterà sempre, ci sarà sempre bisogno di buon giornalismo. Oggi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, come ci sono sempre stati per chiunque e in qualunque epoca si sia stati giornalisti. Lanciano, capitale della cultura 2020, dalla città frentana parte il progetto nato da una collaborazione tra l'amministrazione comunale, studioventi e congressi e le numerose associazioni cittadine, un progetto che mira alla crescita culturale, professionale, interculturale e di sviluppo turistico della città. Lanciano ha già superato una prima selezione, rientrando nelle prime 31 ed ora attende domani, ovvero il giorno in cui si dovrebbero conoscere i nomi delle dieci finaliste. Lanciano è semifinalista assieme ad altre 30 città candidate a capitale della cultura italiana 2020. Il primo step è stato superato. A metà novembre il Ministero dei Beni Culturali ne sceglierà solo dieci, alle quali far proseguire la corsa fino al 31 gennaio prossimo, quando sarà individuata la città vincitrice. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Mario Pupillo come un piano regolatore della cultura adottato dall'ente, elaborato assieme a realtà imprenditoriali, associative e istituzionali di Lanciano. Il progetto ambizioso era chiuso in un dossier di 62 pagine, dal titolo Lanciano città del miracolo, delle fiere e della musica, la cultura dell'anima. C'è stata una necessità che probabilmente anche le amministrazioni precedenti avrebbero dovuto affrontare, ma finalmente con questa sfida che è la partecipazione al bando della capitale della cultura ci siamo detti che forse è il momento giusto per disegnare l'offerta culturale e turistica della città. Quindi abbiamo così pescato nel passato e nel presente e abbiamo pensato che il Fir Rouge potesse essere la cultura dell'anima perché l'editrice Carab, nell'inizio del Novecento, proprio con questa collana di 163 autori di tutto il mondo, fu conosciuta veramente a livello internazionale. E in più, come sottotitolo, ovviamente, la città della musica, delle fiere e del miracolo eucaristico. Io aggiungerei anche dei presepi, quindi il presepi si ricollega all'anima, alla spiritualità. Abbiamo fatto il punto con tante associazioni, tanti portatori di interesse e quindi questo è una sorta di piano regolatore della cultura e del turismo che apriremo a prescindere se saremo selezionati fra i dieci finalisti o se vinceremo, se dovessimo vincere, ma abbiamo concorrenze spietate, Parma, Siracusa, Salerno. Però noi andremo avanti lo stesso, il 2018 sarà l'anno della verifica in cui avremo le osservazioni a questo piano regolatore e poi nel 2019 andremo, scegliendo le priorità, a fare quegli aggiustamenti, quelle operazioni e quelle strategie che servono per far crescere Lanciano perché noi siamo orgogliosi di avere una città straordinaria che però forse non abbiamo saputo far conoscere. Ed ora andiamo nel Pescarese a Pianella, l'Associazione di Protezione Civile Modavi ha organizzato un evento di beneficenza in favore della popolazione di Amatrice colpita dal sisma del 2016. Il servizio della redazione di Vestina News. Emanuele Bufolano è il presidente Modavi nazionale, un'associazione di protezione civile oggi qui a Pianella per questo evento di beneficenza per aiutare a far rinascere Amatrice. Noi siamo stati impegnati sin dal 24 agosto 2016 sui territori di Amatrice, ci siamo legati a questi territori dove noi abbiamo trascorso quattro mesi, quindi pensavamo che comunque fosse utile lasciare un aiuto a quelle popolazioni che abbiamo assistito, oltre nei campi, anche lasciare un segno sul territorio, donando loro una struttura che in accordo con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi doneremo ai produttori locali, ai produttori che hanno dei prodotti a marchio d'eco, quindi prodotti tipici dei territori di Amatrice, perché non hanno purtroppo neanche ancora gli spazi per far ripartire le produzioni e la vendita dei loro prodotti. Abbiamo voluto questo evento qui a Pianella per sposare il progetto del Modavi nazionale per la ricrescita di Amatrice. Crediamo in questo progetto, è un progetto concreto che daremo comunque un sostegno. Circa un annetto fa abbiamo fatto una raccolta di materiali, materiali prime per la popolazione, per fortuna tutta la popolazione di Pianella ha risposto abbastanza bene e siamo riusciti a fare un trasporto con un camion di circa 20 bancali di materiale, quindi siamo riusciti a portare la merce a destinazione tra materie prime e indumenti. E ora la pagina dello sport, ripresa degli allenamenti nel primo pomeriggio per il Pescara, per una settimana particolarmente delicata che porterà i biancazzurri al match di sabato da non fallire contro la Provercelli. L'obiettivo è fare risultato per lasciarsi alle spalle la miniserie negativa di risultati. Un punto nelle ultime quattro gare. Tornano a disposizione di Zeman, Capone e Benarì dopo gli impegni con le nazionali. A disposizione anche Coda che ha scontato la scolifica. Difficile il recupero di Bovo. Sul momento del Pescara ascoltiamo i giocatori Fornasier e Pettinari. Il nostro deve essere un altro campionato. Dobbiamo crescere insieme, continuare a diventare più squadra e fare il massimo come abbiamo fatto oggi. Se tu fossi un tifoso del Pescara, saresti preoccupato dopo questa prova, dopo questo secondo tempo, dopo questi risultati, tutt'altro che positivi? Preoccupato forse un po' per i risultati, ma non per le prestazioni assolutamente. Le prestazioni oggi, come ho detto prima, tutti assolutamente dal primo all'ultimo sono sacrificati per la maglia, anche chi è entrato. Non vedo uno che abbia giocato male o non abbia dato il massimo. Quindi c'è rammarico, però abbiamo giocato contro un grande Bari. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco e farlo più a lungo, come dicevi prima, cercare di continuare a farlo per più minuti e sfruttare le occasioni che si creano, poche o tante che siano. Cosa non va in questo Pescara? Al di là del fatto che se più o meno sia questa una squadra azemaniana, resta però il fatto che non riuscite a proporvi a giocare un calcio che vorrebbe il vostro allenatore, ma che vorrebbero anche i tifosi. Eh sì, lo vorremmo anche noi, ovviamente. Noi lavoriamo tanto, tutte le settimane, per provare a fare quello che ci chiede il mister. Evidentemente questo non sta bastando, ognuno di noi dovrà tirare fuori qualcosa di più, perché questo non basta. Sabato prossimo c'è questa gara con la Provercelli, gara da vincere. Sì, assolutamente, è tostissima, è un'altra gara tosta, loro vengono da una gran vittoria contro l'Empoli. Non è mai stata una partita facile contro la Provercelli e non sarà neanche sabato prossimo. Dopo questa partita, dopo tre sconfitte in quattro gare, che importanza assume la partita di sabato prossimo all'Adriatico con la Provercelli? Una partita, vabbè, inutile dirlo, è veramente fondamentale per noi, perché in casa ci manca la vittoria ed è fondamentale ritrovarlo il più presto. La Provercelli ha fatto una grande vittoria, noi dovremmo preparare benissimo questa partita. E ora la Serie C, il capitano del Teramo Ivan Speranza rivive la gara di domenica pomeriggio contro il Gubbio che gli Umbri hanno ribaltato in due minuti dopo l'iniziale vantaggio bianco-rosso. Il diavolo solamente domani tornerà al lavoro in vista della gara esterna sul campo del Renate. Vediamo. Su due episodi, due minuti incredibili purtroppo. Due ripartenze, ma è stata, penso, tutta la partita, comunque faccio bene. Abbiamo procciato bene la partita, abbiamo fatto tutti i 40 minuti, abbiamo tenuto sempre palla a noi. Purtroppo sono stati questi due minuti che abbiamo regalato questi due gol. Potevamo fare sicuramente molto meglio, ci sono tante responsabilità da parte nostra, però il calcio è questo purtroppo. Quando meno te l'aspetti, magari, penso oggi comunque come possesso palla, volume di gioco, magari dobbiamo creare pure qualcosa in più nel secondo tempo, però non era facile comunque. Quando la squadra si difende tutta lì dietro, mi ha fatto una grande partita. Magari migliori, molto migliori di qualcun altro. Purtroppo l'abbiamo persa. Il calcio è anche questo, purtroppo. Ci imbocciamo le maniche, dobbiamo andare avanti. Purtroppo ci fa male questa sconfitta, ancora di più perché non meritata. Però dobbiamo allenarci come stiamo facendo, come sempre, migliorare sugli errori che abbiamo fatto anche oggi. Siamo una squadra giovane, una squadra che comunque ha tanta umiltà, ha voglia di crescere, ha voglia di migliorare giorno dopo giorno. Una squadra che si allena 3.000 all'ora ogni giorno. Ci aiuterà tantissimo, sicuramente, perché comunque miglioriamo sempre sugli errori che facciamo. Quindi ci aiuterà di sicuro. Ma noi dobbiamo rimanere con la testa sulle spalle, come abbiamo sempre fatto. Non è che eravamo fenomeni prima e adesso siamo scarsi per questa partita. Anzi, ripeto, il rammarico dello spogliatore è questo. Aver fatto una buona partita non aver portato nulla a casa. Questo è il rammarico. Penso che forse al di là della partita col Cordenone, penso che siamo giocati un po' con tutto. Noi dobbiamo, ripeto, come ho detto prima, noi dobbiamo essere umili, dobbiamo tenere la nostra tranquillità perché non è... Purtroppo, ripeto, questa sconfitta ci fa male, ma non è la fine del mondo adesso. Mancano ancora tante partite e, ripeto, possiamo andare lì a Renata e fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto le altre partite. quindi dobbiamo stare solo tranquilli, lavorare e andare lì a fare la partita. E ora in serie D, parliamo di L'Aquila Calcio, tutto rinviato a fine mese. L'assemblea dei soci del club Rosso Blu non approva il bilancio e prova a trovare soluzioni. giocatori senza stipendi da due mesi e pazienza che inizia a vacillare. Germana Dorazio. Nulla di fatto nell'attesa assemblea dei soci dell'Aquila Calcio che avrebbe dovuto approvare il bilancio. I soci chiedono tempo evidentemente e la pazienza dei giocatori che il primo dicembre potranno svincolarsi comincia a vacillare. A parlare per tutti è stato l'avvocato Tiberio Gulluni, incaricato da Massimo Mancini. A lui il compito di mediare tra vecchi e nuovi. L'unico impegno preso però ad oggi è quello di trovare una soluzione in un modo o nell'altro entro il 30 novembre per rispetto di giocatori, mister, staff e collaboratori. La trattativa con Fioravanti, Gizzi e Pensi sembrava ad una svolta la scorsa settimana con il futuro presidente che addirittura aveva parlato con la squadra ma a quanto pare le richieste sono le medesime di agosto, il risanamento dei debiti su base pluriennale. L'ipotesi del concordato pare non sia piaciuta ai nuovi e dunque Corrado Chiodi e compagni potranno anche avventurarsi nella gestione della stagione fino a giugno, ma a che prezzo? Si parla di un taglio nella squadra, voci ovviamente non confermate, che smantellerebbe un progetto tecnico vincente e che getterebbe ancora più nubi sulla vecchia proprietà. Su una cosa tutti unanimi, nessuno vuole far fallire la società, ma intanto i giocatori attendono da due mesi gli stipendi e il 30 si avvicina. L'avvocato Gulluni ha spiegato che si sta lavorando ad una revisione delle poste di bilancio, un'ulteriore ricognizione per vedere come si può alleggerire il passivo. Ranucci sfiduciato? Neanche a pensarlo, anche se alcune voci lo avevano fatto intuire. Ranucci, ha spiegato l'avvocato di Mancini, ha solo detto di essere stanco e ha chiesto ai soci aiuto e sostegno. Tutto questo mentre mancano i soldi anche per la gestione corrente, in uno scenario nel quale i tifosi ormai pagano trasferte e fanno la spesa ai giocatori, che in campo li ringraziano vincendo. Surreale! Un'altra parola per definire la situazione purtroppo non si trova. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima, la terza alle ore 23, poi vi ricordo l'appuntamento delle ore 21 con Proteramo, con la conduzione di Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.